Ancora una giornata di pesanti disagi alla circolazione stradale sulla statale 38. I problemi sono cominciati intorno alle 6.20 quando al chilometro 58 più 400 nel territorio comunale di Bianzone un autotrenno della Coinè che trasportava l'acqua minerale della Levissima e procedeva in direzione Tirano Sondrio si è inclinato pericolosamente di 45 gradi a causa di una sbandata improvvisa. Una manovra forse tesa ad allargare per favorire il transito di un altro veicolo secondo la prima sommaria ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tirano. Il guardrail in parte sfondato ha comunque impedito che il mezzo pesante si ribaltasse a causa del dislivello con la scarpata adiacente rimanendo invece in parte sulla carreggiata. Per un'ora il transito è stato possibile anche se difficoltoso poi alle 7.30 una volta intervenuta l'autogru dei vigili del fuoco per la rimessa in strada del tir si è dovuto procedere alla totale chiusura della 38 per consentire l'operazione. Immediate e pesantissime le ripercussioni sulla viabilità con la formazione di lunghe code da tresenda e soprattutto da Tirano che carabinieri e polizia di stato hanno cercato di smaltire sulla viabilità secondaria. Poche infatti le soluzioni alternative per aggirare il blocco e consentite solo ai mezzi di piccola stazza mentre i camion sono rimasti inevitabilmente fermi in coda sulla 38. Il traffico così è stato deviato sulla viabilità interna tra Villa di Tirano e Bianzone. Siamo incolonnati anche qui insieme a tanti altri automobilisti che hanno dovuto prendere questa alternativa obbligata per cercare di aggirare il blocco sulla 38. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell'ANAS. In poco meno di tre ore i vigili del fuoco sono riusciti a completare il recupero del veicolo ancora in grado di rimarciare. La statale così è stata riaperta in entrambe le direzioni intorno alle 10 e 15. Il leso, il camionista, nessun altro veicolo è stato coinvolto.